prezzo. Costerà meno e sarà un vantaggio per tutti. Grazie. Onorevole Toglia, un minuto. Siamo tutti consapevoli oggi che la sfida della competizione globale con i paesi asiatici, l'America, ma anche con altre aree del mondo, penso al Canada, che corre molto sul digitale, si gioca appunto sullo sviluppo dell'economia digitale, sulla sua capacità di integrazione tra il manifatturiero e i servizi, la sua capacità di innovazione. E tutto questo vede l'Europa di fronte a una grande sfida, si saprà reggere questa competizione. Bene, io penso che questo pacchetto, questo imponente e importante codice che le colleghe, in prima persona, ma tanti altri colleghi hanno negoziato, sia un buon quadro che mette l'Europa proprio in condizione di poter affrontare questa competizione dello sviluppo dell'economia digitale. Penso al tema degli investimenti, alle norme che qui ci sono, perché c'è bisogno per sviluppare questa economia in tutti i settori di una infrastrutturazione di rete, di connessione adeguata, avanzata. Ecco, io penso che qui dentro, con l'armonizzazione dello spettro, gestione armonizzata e con le norme anche sugli investimenti, penso che si possa offrire questo quadro. Starà ora gli operatori essere capaci di giocare questa sfida, di metterci le risorse necessarie. Due punti soltanto, lo spettro e le tariffe internazionali. Abbiamo negoziato la caduta del roaming. Io ero lasciato per il mio gruppo, penso che l'abbattimento delle tariffe internazionali e l'abbassamento vada in quella direzione per i consumatori. Passiamo al Catch DI. Tre richieste di intervento. Presidente, Commissario, Redatori, grazie. Nella Commissione del Mercato Interno ho collaborato attivamente e con piacere a questo compromesso per la connettività.